In la vita di tutti i giorni può capitare di tutto, potessi subire una stossa, un mal di schiena, un improvviso torcicolo, una diarrea pulmonica, ma anche perché no, una vescichia a buio. E' questo che noi abbiamo messo l'onologica, porta a renda. Oh, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, dai, grazie. Attenzione però alle rigatute.